La Befana arriva al San Donato di Arezzo carica di giocattoli per i bambini ricoverati in pediatria. Una sorpresa graditissima per i piccoli che sono costretti a passare le festività all'interno del reparto diretto dal dottor Marco Martini. Abbiamo scelto di andare in pediatria in un momento in cui i bimbi sono soli, lontani dal loro ambiente familiare e dalla loro casa, dice il dottor Vincenzo Costanzo, direttore della cooperativa sociale Onlus La Città del Sole di Arezzo, per farli sentire come a casa e coccolarli, abbiamo deciso di portare loro giocattoli in modo da distrarli e far sentire il nostro calore. Siamo sempre felici quando riceviamo attenzione per il nostro reparto e i suoi piccoli degenti, dichiara il dottor Marco Martini, direttore della pediatria del San Donato. Essere presenti con un dono da consegnare ai bambini è importante per rendere più facile la degenza in reparto e far sì che i piccoli ne abbiano un buon ricordo. Alla Città del Sole non può che andare tutta la mia riconoscenza e il più sentito ringraziamento.